buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi con un semplice clic tornando a quello è successo ieri eh in Napoli Lecce io ho provato a guardarla quella partita ma prima del gol mi sono addormentato sul divano e ai tifosi napoletani vorrei dire una cosa di stare calmi perché ora vedremo a novembre quanti punti faranno non c'è nessun rosicamento in atto ma cioè eh in che c'è da rosicare non c'è nulla da rosicare Conte è un allenatore che va a Napoli con tutto rispetto per Napoli e per i napoletani Conte va a Napoli dopo due anni che non lo voleva nessuno per disperazione perché eh chi è nell'ambiente sa benissimo che lui ha provato in tutti i modi ad andare al Milan alla Juve e addirittura ha provato anche a ritornare all'Inter cari signori e qualcuno questo lo sa molto ma molto bene Napoli la classifica del Napoli calcistiamente parlando è Napoli è l'anticalcio non si può vedere giocare a calcio nel duemilaventiquattro in quella maniera perché Napoli specula non gioca a calcio la classifica dei partenopei è data da errori arbitrali a favore e da un calendario non in discesa di più perché l'unica squadra decente che ha incontrato è stata la Juventus che dove ovviamente non ha vinto e mi ricordo la partita di Parma dove Napoli è stato presa a pallonata in Coppa Italia Napoli è una squadra che non gioca a calcio e che non andrà lontano veniamo a noi derby d'Italia rivalità infinita quanti ricordi quanti ricordi quanti ricordi tanti ricordi la Juventus di Motta Motta è un allenatore che per certi versi mi mi piace mi piaceva ma è un allenatore che carica troppo la squadra perché quando la carichi troppo eh rischi di ottenere eh il risultato contrario di quello che vuoi vedi anche ammunizioni eh parte dietro a non pugile che picchia che ha preso il posto di Chiellini che hanno che ha l'immunità sui falli eh rigori non dati contro cioè sono sempre loro però fondamentalmente non attacchiamoci agli arbitri se vuoi vincere contro la Juventus io questa cosa mi sembra di averla già detta ma se vuoi vincere contro la Juventus ehm visto che Motta è un allenatore vedi anche Bologna dove faceva tantissimo turnover ma all'ottantesimo il Bologna scoppiava per quello saltava addosso agli avversari no a livello atletico Motta è un allenatore bravo ma non riesce a far giocare le proprie squadre sotto ritmo cioè lui non riesce Motta è un allenatore che va a palla e finisce la partita a palla e spesso i giocatori a settantesimo non ne possono più pur facendo turnover e pur facendo tre quattro sostituzioni quindi noi cosa dovremmo fare o cosa avremmo dovuto fare non c'è la Noglu e Acerbi che purtroppo non ci sono ma cosa dobbiamo fare dobbiamo farli correre a vuoto il più possibile e colpirli nei momenti di stanchezza perché una delle nostre doti migliori una delle nostre migliori qualità è saper variare il ritmo durante la partita cosa e fino a due anni fa non avevamo purtroppo questa qualità di variare il ritmo mi sembrerà strano quello che vi sto per dire ma molti di voi lo sanno la perdiamo quando mancano due giocatori chiave Cialanoglu e Acerbi anche perché gli scambi di ruolo tra Cialanoglu e Acerbi Acerbi che spesso è un attaccante un attaccante aggiunto quello quando vuoi accelerare Acerbi te lo trovi su purtroppo senza quei due la perdiamo questa caratteristica quindi dobbiamo puntare molto sul farli girare a vuoto e sbagliare se giochi te Aslani lo dico a te e sbagliare meno passaggi possibili Vlaovic l'Inter ha sofferto Vlaovic solo purtroppo quando c'era Acerbi ricordatevi l'errore del gol dell'anno scorso quindi Acerbi su Vlaovic era una certezza devrai devi stare attento su Vlaovic che quella quella è una cosa che un po' mi preoccupa perché è un attaccante che a me piace ma l'olandese deve stare molto ma molto attento deve stare molto molto attento su Vlaovic quindi parrucca parrucca vorrebbe fare la volata noi dobbiamo andare a prendere parrucca per il Bavaro anzi per per il parrucchino lo prendiamo e lo rimettiamo al quarto quinto posto perché non si può vedere giocare una squadra di calcio in quella maniera e non è giusto che una squadra di calcio in quella maniera sia prima perché l'anticalcio io non ce l'ho né con il Napoli né con il Napoli anzi mi stanno simpaticissimi ma non si può vedere giocare a calcio in Napoli è inguardabile io vorrei chiedere di forse il Napoli cioè come fate a guardare quelle partite come fate a guardare quelle partite tra l'altro tra l'altro io vi dirò una cosa in panchina abbiamo pochi variabili dobbiamo pochi variabili e offensive perché lo sappiamo tutti abbiamo non abbiamo tanti fortunati quindi secondo me gli undici titolari stasera devono essere bravi a cambiare loro la partita perché per me potremmo contare molto poco sulla panchina quindi chi va in campo mi raccomando Tikus Lautaro voi dovete far sì che la partita si in anelli subito nella direzione giusta e a me non me ne frega una sega se corre l'attaccante deve tirare ciao Inter